Cassa Centrale Banca uscirà dalla Federazione Trentina della Cooperazione. Una decisione presa per motivi tecnici vista la trasformazione in gruppo nazionale ma che avrà inevitabilmente delle ricadute pesanti sugli equilibri economici del territorio. Il servizio di Alessandro Franzi. Cassa Centrale Banca ha deliberato di uscire dalla Federazione Trentina della Cooperazione anche se ci vorrà ancora un po' di tempo per attuare la decisione. La mossa a motivazioni tecniche, il gruppo che diventerà operativo il prossimo anno, avrà una dimensione nazionale, quindi con logiche e riferimenti più ampi di quelli di una semplice banca locale. Eppure l'uscita annunciata dalla Federcop avrà riflessi importanti sugli equilibri dati finora per scontati sul territorio trentino e non si può escludere che dietro ci siano anche valutazioni politiche visti giudizi divergenti sulla riforma del credito cooperativo fra Cassa Centrale e Federazione che ora rischia anche di perdere un'importante fonte di contributi. Altre rurali decideranno in futuro di lasciare? Difficile dirlo, nessuno in giornata ha commentato la notizia. Contatti telefonici e riunioni si sono susseguite fra i due palazzi alla ricerca di una comunicazione congiunta che offrisse un messaggio rassicurante con una sintesi cercata fino a sera.